Grazie a tutti Allora ho avuto il piacere di conoscere questa azienda tramite il mio sponsor che è appunto Fabiana Sordilli, in realtà noi ci siamo riviste dopo molto tempo e davanti a un caffè io le ho semplicemente chiesto che cosa stava facendo perché vedevo che appunto su Facebook pubblicava questo suo nuovo progetto, questi prodotti, la vedevo sinceramente meglio, solare e quindi questa cosa mi ha incuriosito e le ho chiesto di più Cosa stai facendo? Che cosa sono questi prodotti? E poi chi è stata prima dei due Alessia a cominciare? Io sì, sempre tramite Anna Laura che appunto ha iniziato per prima, è una mattina l'incontro e mi dice Alessia ti vorrei invitare ad un incontro perché ho iniziato da una cosa in cui ci sto credendo tantissimo Non mi ha detto di cosa si trattava però io comunque a titolo di amicizia ci conosciamo da una vita ho deciso di andare Qualche giorno prima su Facebook era stata taggata e avevo visto che si trattava di integratori però lì per lì non mi interessava Però sono andata comunque perché siamo amiche da una vita e andata lì mi sono dovuta ricredere perché comunque dopo che mi ha illustrato l'azienda, i prodotti e tutto il resto Io sono rimasta piacevolmente colpita, mi sono documentata, uscita da quell'incontro per un po' mi sono documentata perché insomma contifidavi Un po' di scetticismo c'è e ci deve stare forse nelle cose no? Però comunque la fiducia c'è nella persona quindi in questo caso di Anna Laura e da lì ho voluto subito iniziare ad usare i prodotti e mi è nato qualcosa di bello E poi ce l'hai provato, sei stata meglio e poi ne hai parlato anche a qualcun altro come l'altra Alessia Io ho conosciuto la Fitline tramite Anna Laura, noi siamo amiche da tempo ma anche vicine di casa quindi nel parlare mi ha raccontato che aveva intrapreso questa attività E niente mi sono subito documentata anch'io, poi lei mi ha raccontato un po' dell'azienda, di cosa si trattasse, che si usavano degli integratori per stare meglio E da lì ecco sono entrata, io sono soltanto due mesi che sono in Fitline quindi ancora... Sei giovane, sei fresca Sono fresca La Fitline è un'azienda tedesca, propone integratori e prodotti di bellezza Fitline è la linea che nasce dalla PM International, che è appunto questa azienda tedesca e propone un programma di integrazione alimentare ma soprattutto anche una linea beauty per cui abbiamo anche la beauty line Quindi diciamo per tutti i tipi di esigenza, ma come funziona? Mettiamo che qualche ascoltatore, ascoltatrice fosse interessata, vi contatta e poi cosa succede? Sì, qualsiasi persona interessata sia per poter entrare come diciamo vuole fare questo tipo di lavoro, però può anche prendere prodotti per stare meglio, può contattare Poi dopo i contatti li lasceremo, ok, poi facciamo lo step successivo, vi contatta e cosa succede? Ci contatta e in questo caso andiamo a spiegare e a far vedere quindi i prodotti che noi usiamo Quindi c'è un kit base, che è un kit che si chiama Optimal Set, che è un kit per vivere meglio E questo Optimal Set... Questo è il Basic, sono delle bustine di otto porzioni di frutta e verdura Questo è l'Activize, è diciamo un acceleratore di metabolismo, aiuta... Un energizzante E questo qui il restaurant, che viene preso la sera, sono sali minerali che aiutano comunque a rilassare il corpo e a dormire anche meglio Diciamo che per riepilogare un po' il tutto, è come se il nostro corpo è una stufa, la paragoniamo a una stufa Noi la mattina prendiamo un kit 8, un kit 9 di frutta e verdura, quindi mettiamo la legna, la riattiviamo con il fuoco con questo Activize E la sera le ceneri, le tossine, quindi sarebbero tutto il depositi, che lavora durante la notte, le andiamo a togliere con questo restaurant Quindi ci andiamo a depurare dall'interno, ci aiuta quindi a ripulire tutti gli intestinali, questa bustina di frutta e verdura Quindi ad asciugare il suo corpo Ma non serve per dimagrire? No, allora non nasce come un integratore, quindi non nasce per un discorso di dimagrimento Perché logicamente il nostro corpo ha bisogno di sostanze dove noi magari siamo carenti In questo caso le andiamo ad assumere e ad integrare solo quello che serve Perché la nostra forza è questa NTC che tutti i prodotti hanno È un concetto di trasporto dei nutrienti intelligente che va a livello proprio cellulare dove e quando serve Quindi noi prendiamo solo quello che ci serve e il resto lo espelhiamo, non passa attraverso fega terreni Quindi in questo caso abbiamo più energia perché il nostro corpo prende quello di cui ha bisogno, ci sentiamo meglio, siamo meglio Diciamo che parte tutto da questo che è quello che riequilibra un po' tutto il nostro corpo e poi ci sono comunque altri prodotti Quindi da diciamo dalle tisane drenanti al pasto sostitutivo che comunque aiutano anche quelli a dimagrire Ma già con questo si può riequilibrare, si può dimagrire in qualche modo? Io posso dire che utilizzando questo ho perso 5 kg ma mangiando quindi non è che sono dimagrita È che probabilmente il mio corpo aveva bisogno di integrare determinate vitamine, fibre e quant'altro Mi sono asciugata e poi ho unito a questo le ciccicelle che lavorano quindi sui tessuti, sulla cellulite, la lozione e le pasticche Che vanno quindi a rinforzare i tessuti, a delenare e a rimodellarci Importante è sapere che sono prodotti certificati perché tra i tanti brefetti che hanno hanno un GMP Che è una certificazione a cui vengono sottoposti soltanto il 5% dei integratori In Italia non è obbligatoria e questa è una cosa in più che ci dà certezza e sicurezza su quello che noi stiamo prendendo Sì è un altro prodotto, ma da dove c'è tipo Mary Poppins è stazionato pure dalla borsa Questo qui per esempio è il pasto sostitutivo, io ecco di questo ho avuto dei benefici perché l'ho provato E provandolo a pranzo e a cena e facendo una colazione normale come facevo sempre Ho perso un chile e mezzo in tre giorni quindi mi ha dato dei benefici in questo E poi dopo? Anche perché? Dopo tre giorni? No no, diciamo che comunque poi devi tenere comunque sempre uno stile di vita buono Non è solamente anche lo stile di vita che uno ha, movimento, mangiare sano e poi bere tanto Perché comunque l'acqua è fondamentale sempre e quei due litri, tre litri bisogna berli durante il giorno per forza Perché aiuta logicamente a depurarsi e a stare meglio A stare meglio è fondamentale, siamo tutti un po' disidratati purtroppo e poi si vede un po' di facce calate in generale E invece un'altra cosa che volevo chiedervi prima di lasciare contatti e quindi concludere è cosa avete ottenuto voi da questa azienda, da questi prodotti? Sicuramente dal punto di vista fisico come ho già detto prima tanto tanto benessere Mi sono sentita da subito molto molto più carica, molto molto più motivata anche nelle cose che normalmente facevo Oltre che anche io mi sono molto molto asciugata e quindi ho avuto dei benefici da subito visibili Poi c'è stato anche comunque una soddisfazione economica perché comunque dietro questa azienda c'è un bel business Che comunque ti aiuta e ti dà la possibilità di guadagnare in maniera veramente semplice e come dicono loro semplice e vincente E poi si è creato comunque un bel gruppo di persone che lavorando tra loro diciamo organizzano eventi quindi varie Quindi trovate delle amiche se volete cominciare e stavate cercando anche delle amiche sia lavoro che amiche Sì nuove conoscenze Nasce un bel business perché comunque sia la gente soprattutto se si fida di te Quindi se tu nella vita hai seminato bene e te lo ritrovi perché la gente soprattutto oggi non è che si fida di tutto Giustamente è scettica quindi naturalmente se vede che tu lo usi, se tu hai trovato un giovamento Stai bene e dai fiducia alla persona, la persona ti cerca e vuole provarlo Assolutamente è vero, verissimo, se volete saperne di più potete contattare singolarmente Vi darò tre contatti quindi se segnatevi lì poi li contattate insomma singolarmente Anna Laura Campagiorni su Facebook, questi sono i profili Facebook Altrimenti Alessia Bifolco oppure Alessia Rizzo sono su Facebook con tre profili, è un profilo o una pagina? No sono profili Profili quindi raggiungete o scrivete un messaggio per saperne di più Altrimenti mandate un'email a bifolcoalessia.gmail.com oppure alessia.rizzo1976.gmail.com Altrimenti annalaura.fr.gmail.com Io vi ringrazio ragazze per essere state qui, per averci parlato di questi prodotti Grazie a voi, grazie a voi Grazie mille